Sono arrabbiata. Non volevo che andasse così. Però vedrai che una soluzione la trovo. C'ho già un'idea. Sai come si dice? Quando si chiude una porta si apre un portone. E io già l'ho visto. Basta che citofono. Hola Minaccioni, a Cortina Metraggio 2019. Raccontaci cosa stai facendo qui a Cortina. Allora, intanto ho il piacere di essere qui in veste di ospite. Sono venuta accogliendo l'invito perché la Maddalena Maineri ha saputo che io ho girato un cortometraggio anziché lo stavo per finire e quindi ha trovato l'occasione per, come si dice, unire i puntini. Io sono qui così da fruitrice e interprete di cinema e quindi con la massima curiosità e l'intenzione di vedere cose e di parlare di cinema. Insomma, per il mio caso specifico, insomma, avrei voluto anche presentare il cortometraggio qui a Cortina Metraggio, però non è ancora pronto e quindi, insomma, mi fa piacere vedere cortometraggi e film. Ci puoi dire qualcosa su questo tuo cortometraggio da regista? Allora, il cortometraggio si intitola Offro io. È la storia di due coppie della Roma bene, è una piccola storia comica borghese, della borghesia romana ed è un, insomma, un po' grottesco, un finale grottesco. La cosa di cui vado fiera è che non è una storia che parla di sentimenti né di storie di donne né di crisi esistenziali femminili, ma l'argomento è un argomento di intrattenimento. E poi vado anche molto fiera degli attori che hanno scelto di interpretare questo cortometraggio. Come si sa, i cortometraggi si fanno per amore, no? Quindi Carolina Crescentini è la prima che mi ha detto sì e mi ha dato un giorno ed è stata, nonostante tutti i suoi impegni così precisa, ha detto sì, lo faccio, ci sono. E quindi io ho apprezzato tantissimo la sua serietà e la sua passione, mi ha detto famolo, così. E poi Paolo Calabresi e Maurizio Lombardi sono due grandissimi attori, quindi il cast è composto da me e loro tre e è ispirato da una storia vera che mi è realmente accaduta e non vedo l'ora di finire di montarlo, insomma, di farvelo vedere. Come trovarsi dietro la macchina da presa? In realtà, siccome io sono sempre stata autrice anche delle mie cose, quindi forse un attore comico è più portato già naturalmente ad avere sempre una visione del tutto per scrivere. Quindi la differenza è che usare il mezzo visivo e quindi tutta la tecnica per me è stata una novità. Riuscire a realizzare attraverso la luce, attraverso le inquadrature una storia, uno stile, questo è a dir poco eccitante. Ho avuto la fortuna di lavorare con Simone Zampagni, che è un bravissimo direttore della fotografia, quindi mi sono fatta molto consigliare. Abbiamo parlato molto, abbiamo trovato una strada comune. Sicuramente lui è stata la persona che ha tradotto tecnicamente quello che io volevo raccontare. Quindi sì, è un'esperienza, devo dire, eccitante. Eccitante e purtroppo capisco perché ci si ammala di questo, capisco. Anche se, insomma, è un cortometraggio, però capisco che ci si può ammalare di cinema e di fare regie. La vedremo, Rone, il prossimo film di Milani, accanto a Paola Cortellesi. Può dirci qualcosa al riguardo? Posso dire che è un film incredibile, ha una struttura di intrattenimento, secondo me, veramente ad altissimo livello. Paola Cortellesi, straordinaria, fa tutto, fa tutto di più. Io e lei ci siamo divertite tantissimo. Adoro il suo percorso artistico, il suo percorso come donna, come autrice. La stimo veramente a 365 giorni all'anno. La stimo sempre di più. Poi Riccardo Milani è stata una scoperta per me perché è un regista che usa tutto quello che sei e si diverte con te e però ti dirige con un'attenzione maniacale. Io adoro i maniaci. Adoro. Lui è attenti. Tutti i grandi sono maniaci dei dettagli, ti squadrano, non ti fanno la regia. E poi hanno, i grandi hanno questa qualità di farti fare le cose lasciandoti credere che sei tu a farle. invece stanno usando il meglio di te per poi formarlo per il film. È una grande qualità. Quindi io sono entusiasta di questo film. Dato c'è un cast pazzesco, sarà divertentissimo e anche sempre con un messaggio importante dietro.